a differenza dell'anno scorso a Fuerteventura dove eravamo sopra il vulcano quest'anno entreremo all'interno del vulcano, entriamo proprio dove è esploso, dove ha vissuto la tua massima potenza e faremo anche qui una bellissima meditazione, adesso c'è comunque sempre un po' di vento siamo proprio all'interno del vulcano, riuscirei a vedere anche te, è un'esperienza veramente unica siamo dentro, 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 dentro il vulcano, dentro di merce proprio questa roccia pura ed è una sensazione veramente unica, una sensazione differente, differente rispetto a stare all'interno dell'eruzione, anche il sentire le pietre, il terreno, entrare proprio in contatto con la madre terra è davvero un'esperienza indimenticabile quindi, come vedi, adesso dalla madre terra andiamo su a vedere il panorama, ciao!